Questa è una vittoria con tanti significati, una vittoria su un campo difficile, contro una bella squadra, ma soprattutto meritata attraverso un grande gioco. Sì, certo, credo che nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, dovevamo chiudere la prima partita, abbiamo fatto tantissime occasioni, ma dopo il secondo tempo abbiamo calato un pochino, ma alla verità molto contento di aver vinto i tre punti. Ancora una grande prestazione tua, perché bisogna parlarne, hai fatto girare molto bene la squadra, ti abbini bene con Artur, sei in grande crescita anche tu? Sì, credo che tutti noi, adesso abbiamo trovato la forma fisica che voleva anche il mister, ma tutti in mezzo, tutta la squadra sta facendo molto bene e dobbiamo continuare su questa strada. Mi racconti cosa significa giocare con Artur, perché vi completate molto bene, lui è un giocatore diverso, con delle caratteristiche diverse da te, ma che giocatore è secondo te Artur? Artur con palla al piede, mamma mia, no, no, creo che il più forte che ho visto di lui è solo Iniesta, ma la verità adesso giocare con lui è un piacere, ma come ti ho detto prima, credo che tutti al centrocampo stiamo facendo bene, abbiamo trovato la forma fisica che volevamo tutti e dobbiamo continuare così, perché si vede una bella squadra. E' stata decisiva secondo te la vittoria della Supercoppa? Tra l'altro tre giorni dopo la sconfitta in San Siro per farvi scattare una molla, per creare entusiasmo nella squadra? Sì, certo, era il primo obiettivo di questo 2021, vincere la Supercoppa e niente, non dobbiamo fare quello che abbiamo fatto a San Siro, abbiamo calato mentalmente, quello che abbiamo parlato anche dopo la partita è di trovare la mentalità giusta, non solo nelle partite più importanti, ma in tutte le partite. Chiedo un'ultima cosa, quale secondo te è la più grande certezza della Juve vostra in campo in questo momento? Sì, abbiamo trovato il gioco, facciamo uscire la parola al piede, l'unica cosa che manca è, come ho detto prima, chiudere le partite con tutte le occasioni che facciamo, dobbiamo chiudere la prima, anche oggi si è visto, ma come ho detto prima, contento per la vittoria.